Si chiama Giulia Inbiscuso, ha 16 anni ed è la giovanissima vincitrice della selezione piemontese dell'Olimpiadi delle Neuroscienze. Mercoledì 29 marzo è stata ricevuta nella sede della città metropolitana di Torino dal vice sindaco Jacopo Suppo, dalla consigliera delegata alle politiche giovanili Valentina Cera e dalla consigliera Caterina Greco con delega all'istruzione che le ha consegnato una pergamena a testimonianza del suo impegno e del risultato fino a qui ottenuto. Giulia Inbiscuso, la studentessa del terzo anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Torinese Santorre di Santa Rosa, ha primeggiato tra 47 finalisti selezionati tra 16 istituti da diverse province piemontesi e parteciperà alle finali nazionali che si terranno nel mese di maggio a Napoli. È qui che si deciderà chi rappresenterà l'Italia alla competizione internazionale prevista ad agosto a Washington. L'edizione piemontese delle Olimpiadi delle Neuroscienze è stata organizzata dalla professoressa Marina Boido del NICO e del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino. Le Olimpiadi di Neuroscienze sono una competizione internazionale che si svolge nell'ambito della International Brain Bee e mettono in competizione studenti, ragazzi che hanno dai 13 ai 19 anni. Ovviamente per quanto riguarda l'Italia è un evento che è promosso dalla Società Italiana di Neuroscienze e si svolge quindi su più livelli, c'è una fase locale dove le scuole identificano i migliori del proprio istituto e poi io mi occupo in particolare di organizzare quella che è la fase regionale, quindi per la regione Piemonte in cui i migliori tre di ciascun istituto piemontese vengono a gareggiare, a mettersi a confronto, a far capire quali sono le loro bravure, quanto hanno capito, quanto hanno studiato nell'ambito delle neuroscienze quindi imparano e studiano con tanta devozione aspetti del funzionamento del cervello, la memoria, l'apprendimento le malattie che colpiscono il sistema nervoso e vengono a competere quindi a Torino questa gara regionale che è organizzata anche grazie alla partecipazione del NICO e del Dipartimento di Neuroscienze. La campionessa quest'anno che rappresenterà la regione Piemonte andrà poi a gareggiare con gli altri campioni delle altre regioni nella finale nazionale che si svolgerà a Napoli e tra qualche giorno in realtà il vincitore, il migliore italiano o la migliore italiana potrà poi andare a gareggiare nella finale mondiale quindi a Washington quest'anno, quindi speriamo nella nostra campionessa.